Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Per Fratelli d'Italia. Secondo me stiamo sopravvalutando questa parola condono nei due casi specifici. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Ci sono 50.000 negozi in Italia, attività commerciali, che devono essere chiuse, abbassate le saracinesche e mandate a casa i titolari. È chiusa l'attività. Perché non hanno regolarizzato alcuni scontrini e alcune fatture. Hanno sbagliato. Che cosa dice questa norma? Dice che se fai il ravvedimento per uso e entro il 15 dicembre prossimo mi dai tutti i soldi, quindi non condono nulla, perché non è che faccio uno sconto, mi dai tutti i soldi che dovevi dare, vengono tolte le sanzioni, le more approvvie. Ti tolgo la sanzione accessoria della chiusura. Dato che abbiamo già Amazon che ci fa chiudere i negozi sotto casa, se possiamo evitare di far chiudere 50.000 negozi, io penso che i telespettatori che ci stanno ascoltando siano d'accordo con chi evita di far chiudere 50.000 negozi prendendosi tutti i soldi che doveva prendere lo Stato dai quei 50.000. Condono edilizio. Qui, come lo sta spiegando Marco Travaglio, scusami per il plurale, sembra quasi che adesso, se Italo ha costruito un grattacielo di otto piani, va lì e gli dà 50.000 lire, 50 euro e gli dà 500 euro e si condona un grattacielo di otto piani. Si sta parlando eventualmente di discutere, di ragionare su un condono per difformità del 2%, cioè per un errore nella costruzione, di 7 cm in più della finestra, di 8 cm in più della veranda, di 6 tegole in più. Stiamo parlando di questo. Non stiamo parlando di gente che costruisce sulla spiaggia. Ultima cosa. I soldi della legge finanziaria. Ha ragione Marco Travaglio. Marco, io ti do ragione che non ci sono i soldi nelle casse dello Stato per fare una buona legge finanziaria e per fare degli interventi molto seri, e tu facevi c'è, non hai ragione. Ma sai perché non ci sono? Perché i tuoi amici di 5 Stelle hanno dragato le casse dello Stato prendendo 100 miliardi per fare il voto di scambio del superbonus, 50 miliardi per fare il voto di scambio del bonus facciato, 20 miliardi per fare il voto di scambio del reddito di cittadinanza, siete scappati col malloppo, vi siete presi i voti di quelli che avete privilegiato, prevalentemente lì, e adesso vi lamentate che non ci sono. Uno alla volta intanto vi siete, ma non mi risulta che Marco Travaglio sia il vice di Conte. Lui è il vero leader dei 5 Stelle, è l'intelligenza dei 5 Stelle, è la migliore intelligenza dei 5 Stelle, cosa che gli viene molto facile, anche se fosse molto meno intelligente sarebbe la migliore. Ecco però do solo un attimo la parola a Marco Travaglio su questa questione del superbonus, perché è vero che tutti i partiti della maggioranza di governo insistono nel dire che quello è stato un disastro e che oggi non hanno i soldi per colpa di...